Domenica prossima alle ore 17 presso la Sala degli Specchi del Circolo Tifernate, Accademia degli Illuminati, in Palazzo Bufalini a Città di Castello, la presentazione del volume Eugenio Armati, Aride Zolle, nostro concittadino in un racconto segnato dalle vicende del secondo conflitto mondiale ha dato voce ai suoi sentimenti, alle sue emozioni e momenti del coraggio, una voce in nome di tanti, anche di quelli che non sono tornati. L'idea di questa pubblicazione da parte delle figlie Giovanna, Carla ed Angela che ci spiega i motivi. Abbiamo trovato tutto il periodo che ha svolto come militare mio padre, dal 35 quando è stato mandato a Cividale del Friuli, quando in Jugoslavia, poi in Russia e quindi tutto il periodo militare. Il mio padre era un pacifista, avrebbe voluto fare tutto meno che il militare forzato e allora il suo personaggio, il personaggio del suo manoscritto si chiama Civile, proprio in opposizione al militare che ha dovuto fare. Nato a Città di Castello, dicevamo, nel 1911, poi le sue tappe era un tipografo che l'hanno portato oltre che nel periodo della guerra ad arrivare fino a Roma. Sì, a Roma dove è stato tipografo, ma è partito come tipografo anche da Città di Castello perché ha fatto il tipografo a Castello, a Todi e ha avuto la fortuna di fare il tipografo anche in Russia, in una piccola casetta che la chiamavano casetta, cioè per loro era la tipografia, sotto questo nome di giornale era la tipografia, fin quando la tipografia in Russia non è stata bombardata ed è andato distrutto purtroppo il suo diario. Tornato in Italia ha messo, forse come tipo scaletta, ha messo i suoi ricordi in questo che poi noi abbiamo curato e così come l'ha scritto lui lo abbiamo pubblicato, con le parole in russo, che non sono in russo naturalmente, sono in russo però con il quale gli italiani si facevano capire. Abbiamo voluto stampare questo libro qui con i luoghi interiori a Città di Castello perché quasi un ritorno, un nostos diciamo, è tornato il vapo così con questo libro da dove era partito.